Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla prima edizione di Calabria News 24 in forma, i titoli del nostro telegiornale. Bonifica Crotone, conclusa la conferenza dei servizi al via la fase 2. Presentato il progetto Marine Strategy per l'area protetta di Isola Caporizzuto. Mario Liverio, la sfida riformista di un presidente scomodo, il libro di Michele Drosi presentato a Cosenza. Conclusa con successo nella città di Ebruzzi l'edizione 2019 della Festa del Cioccolato. Si è conclusa dunque nei giorni scorsi al Ministero dell'Ambiente la conferenza dei servizi con l'emanazione del decreto che sancisce l'avvio della fase 2 della bonifica dell'area industriale di Crotone che ha ottenuto tutti i pareri favorevoli all'unanimità. Ai nostri microfoni il sindaco della città pedagorica Ugo Pugliese. Abbiamo ieri chiuso la conferenza decisoria del POV fase 2, quindi quella della fase 1 era già stata portata a termine, anzi sono iniziati già i cantieri. Abbiamo chiuso la parte amministrativa della fase di bonifica, adesso inizieranno i cantieri. Diciamo che abbiamo chiuso un capitolo nero della nostra città. Inizia una nuova fase, dobbiamo guardare a questa nuova fase con tutto l'ottimismo che necessita. Questo lo dico anche contro i detrattori e lo dico a favore dei miei concittadini perché non sono io a garantire la qualità dell'ambiente, la qualità della salute dei cittadini, ma ci sono tanti di quegli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi che hanno partecipato a tutto il progetto di bonifica che resteranno, non solo ieri hanno approvato all'unanimità, ma resteranno in campo a monitorare prima, durante e dopo la bonifica. Questa è la massima garanzia che avremmo potuto ottenere, abbiamo ottenuto ieri, ma d'altra parte era così che bisognava fare. Durerà 12 mesi il progetto intitolato Marine Strategy che prevede una campagna di ricerca che è di tutela dell'area marina protetta di Isola Caporizzuto. Sentiamo. La presentazione di questo progetto oggi all'area marina protetta, in che cosa esisterà? Noi praticamente insieme all'assessore Rizzo presenteremo questa campagna di ricerca che è specifica sull'area marina protetta di Isola Caporizzuto. Noi abbiamo avuto mandato dall'area protetta di fare un pezzo importante rispetto a alcuni parametri che vengono collezionati attraverso ricerche a mare su sette pilastri della strategia marina che vanno praticamente dai rifiuti a terra, dalle plastiche a mare, dai rifiuti sommersi e un po' da tutto quello che è il mantenimento e la conservazione della biodiversità marina. Abbiamo iniziato con la parte terrestre, in questi giorni i miei ricercatori stanno mappando in dettaglio tutte le spiagge dell'area marina protetta perché noi dalle quantità di rifiuti e dalla tipologia di rifiuti capiamo ovviamente quale sarà poi la situazione a mare. Poi però si farà anche una crociera oceanografica che si svolgerà i primi di novembre, avremo per dieci giorni la nave oceanografica dell'istituto che sta scendendo da Napoli e ci sarà imbarcato tutto il team di ricercatori e così insieme a una serie di strumenti di ultima generazione ora abbiamo un ROV straordinario che riesce ad identificare le specie fino a un millimetro quindi insomma cercheremo proprio di fornire poi all'ente gestore uno stato dell'arte perché la novità rispetto agli altri programmi o ai monitoraggi normali è che in questo progetto anche su richiesta dell'assessore Rizzo noi oltre a fornire dati che sono il contratto, diciamo che sono l'opera che dobbiamo svolgere faremo poi una carta di mitigazione degli impatti. Ritorniamo a Crotone dove nella sede del CSV con i rappresentanti del terzo settore si è discusso della raccolta differenziata. Il terzo settore è in prima linea tant'è che ha firmato il ricorso rispetto all'ordinanza del governatore Oliverio. Il terzo settore è interessato perché a noi, alle nostre strutture associative di volontariato, di cooperazione sociale o di promozione sociale si rivolgono tutti quelli che hanno bisogno e purtroppo nonostante tutti gli sforzi che facciamo noi raccogliendo anche fondi per aiutare le famiglie povere perché devono partire per malattie. Non riusciamo a soddisfare tutti i bisogni di questa città. Ecco perché siamo in prima linea. Non vorremmo dare più soldi per far partire la gente che poi tanto con i tumori purtroppo sappiamo che c'è un'alta percentuale di mortalità. Vorremmo aiutare le persone a vivere in una città bella, pulita, tranquilla perché comunque Crotone ha queste caratteristiche soltanto che purtroppo chi ha amministrato, non solo adesso ma anche nel passato, ha rovinato questa città. Io ho visto delle fotografie degli anni 60, 70, anche 80. La fotografia in quella città era veramente pulita. Quindi anche noi cittadini dobbiamo essere rispettosi delle regole. Ma ecco perché vorremmo fare formazione a tutti i cittadini. Perché effettivamente anche una buonissima amministrazione se poi noi non riusciamo ad essere puliti noi dentro casa nostra il rischio è che tutto vanno quello che si fa. Se non si fa una buona raccolta differenziata che senso ha a fare tutto questo? Cambiamo argomento. È stato presentato a Cosenza il libro biografico del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio dal titolo Mario Oliverio La sfida riformista di un presidente scomodo scritto dalla giornalista Michele Drosi. Una figura di una personalità che ha fatto sempre politica e che si è dedicata al suo territorio all'interno delle varie istituzioni dal Comune di San Giovanni in Fiore al Parlamento alla provincia della Regione. Un impegno contrassegnato dal metodo del riformismo pragmatico. È come viene descritto il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio nel libro biografico dal titolo Mario Oliverio la sfida riformista di un presidente scomodo presentato nei giorni scorsi a Cosenza scritto dalla giornalista Michele Drosi che si è focalizzato in modo particolare sull'esperienza regionale. Nel corso di questi cinque anni si sono avute tante realizzazioni posso citarne qualcuna per dare il segno a incominciare dal trasferimento degli uffici alla cittadella all'ammodernamento della ferrovia ionica dopo tantissime... non si interveniva dai tempi di Cavour con un investimento di oltre 600 milioni di euro le borse di studio per tutti gli studenti a 20 titolo l'acqua a Reggio Calabria dopo 40 anni si sono finalmente conclusi i lavori della diga del MENT la zona economica speciale insomma tutte cose che danno il segno di una capacità realizzatrice che non sempre abbiamo riscontrato nella nostra regione. problemi che da decenni non venivano affrontati perché ha puntato a disegnare la nuova regione a liberarla alle funzioni gestionali a mettere da parte gli interessi particolari per fare prevalere un disegno generale ad utilizzare bene le risorse della Unione Europea destinati alla Calabria per cui oggi la Calabria è la prima tra le regioni del sud in quanto a spesa e per la prima volta invece di essere oggetto di penalità è oggetto di premialità perché grazie a questi risultati la comunità europea proprio nei giorni scorsi ha dato la premialità di 143 milioni di euro aggiuntivi appunto per essere utilizzati in Calabria quindi appunto nel libro sono delineati sono delineati questi passaggi questi obiettivi realizzati e in corso di realizzazione io lo ringrazio perché lui appunto attraverso questa opera dimostra appunto quelle che sono i risultati di un'azione di governo ma soprattutto evidenzia quello che è un profilo riformista appunto che ha guidato la nostra azione di governo palestre a cielo aperto sui monti della longevità è l'iniziativa organizzata dalla SDMTC 360 Sport e dal Dipartimento Turismo e Spettacolo della Regione Calabria che a Camigliatello ha coinvolto famiglie e studenti a Camigliatello Silano in località Federici si è svolto in collaborazione con la SDTMC 360 Sport un'emozionante escursione alla quale hanno preso parte gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Pezzullo Quasimodo Serra di Cosenza e tante famiglie provenienti anche da fuori regione si tratta della seconda edizione di palestra a cielo aperto sui monti della longevità il progetto promosso dal Dipartimento Turismo e Spettacolo della Regione Calabria che punta alla valorizzazione delle montagne calabresi promuovendo un sano stile di vita trasporto e dieta mediterranea il primo appuntamento di una a due giorni che vedrà coinvolto anche il Parco Nazionale del Pollino per una competizione di rafting sul fiume Lau palestra a cielo aperto 2019 siamo nel Parco Nazionale della Sila in una giornata dedicata allo sport alla natura e alla buona gastronomia importante questa giornata per i giovani è sicuramente la possibilità di poter vivere il contatto con la natura sperimentare soprattutto imparare ma anche capire che non bisogna essere un atleta per poter vivere appunto la natura e noi questo abbiamo cercato in questa giornata di trasmetterlo questa mattina i ragazzi dell'istituto Pezzullo Quasimodo Serra sono presenti in questa bellissima struttura per un progetto di trekking a contatto con la natura abbiamo accolto con entusiasmo l'invito alla partecipazione perché crediamo che i ragazzi debbano recuperare un po' il rapporto con il passato soprattutto con le bellezze naturali presenti nella nostra regione in un momento di distacco anche dai mezzi tecnologici che purtroppo incomprano la loro vita quindi free gel senza cellulare ma semplicemente a contatto con gli odori con i sapori, con i colori soprattutto i colori dell'autunno che sono davvero splendidi in questa giornata di sole sono stati accompagnati dai docenti in questo momento stanno facendo un'escursione poi ci sarà la degustazione di cibo locale anche per un ritorno ai sapori antichi che non sempre i ragazzi apprezzano Oggi siamo qui nell'ambito dell'iniziativa Palestra a cielo aperto sui monti della longevità è un'iniziativa promossa dalla regione che si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio di valorizzazione delle aree interne a livello turistico noi con questo progetto vogliamo dire che i nostri monti sono delle vere palestre in cui è possibile praticare tantissimi sport non solo per i più giovani ma anche per le famiglie dall'orienteering, al canyoning, rafting, gambling insomma veramente tantissimi sport e oggi abbiamo qui degli studenti quindi un target più giovenile ma anche delle famiglie con bambini abbiamo fatto questo bellissimo percorso di trekking nella Sila, zona di Camigliatello abbiamo del capitale umano da valorizzare del capitale ambientale da valorizzare la Calabria può offrire veramente tutto sui suoi monti della longevità dove la cucina sana, la solubrità dell'aria ristorano mente e corpo e quindi veramente delle palestre per ricaricarci dai nostri ritmi quotidiani Cambiamo nuovamente argomento anche quest'anno per la festa del cioccolato di Cosenza Cala il sipario registrando numeri da record e tanta cioccolata Si inizia già a pensare alla prossima edizione quella della maggiorità perché la festa del cioccolato di Cosenza nel 2020 diventerà maggiorenne ma intanto è appena terminata l'edizione numero 17 che è stata un vero e proprio successo Il centralissimo Corso Mazzini è stato letteralmente invaso da migliaia di visitatori desiderosi di vivere l'evento e ovviamente addolcirsi con un po' di cioccolata Non è mancata l'animazione ma i dolci sapori sono stati veri protagonisti Cioccolatieri e pasticcieri provenienti da tutta Italia hanno deliziato i cittadini di Cosenza ma non sono mancati i visitatori provenienti da ogni parte della regione ed anche da fuori Calabria per un weekend decisamente particolare C'è chi ha preparato dolci dal vivo chiaramente al cioccolato come gli Acry Chef C'è chi invece ha deliziato il pubblico con la classica cioccolata in tutte le sue forme Non è mancato poi l'aspetto sociale con la presenza di alcune associazioni che hanno deciso di dedicarsi alle persone meno fortunate Dunque una vera e propria festa che piace e che da quest'anno è stata istituzionalizzata quella organizzata dalla CNA che fin da ora rinnova l'appuntamento per ottobre 2020 la festa del cioccolato compie 18 anni una ricorrenza da celebrare nel migliore dei modi E per questa prima edizione è tutto io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com Grazie e a più tardi